bello quello c'è la cura di dietro giusto è più una falina che una cura ma per me hanno però qui vestiti costa tipo quanto costa 400 dollari quanto più o meno perché su gta quanto costa ma io ho preso un golf dell'82 l'ho pagato tra l'altro quando l'ho lavorato gli ho messo una lettone che ho dovuto chiedere il permesso al sono io che lancio le carte che cazzo le carte che la porco dio ma che cazzo ho lanciato qua gesù cristo sotto un ponte quasi quasi chiappa chiappa come 40 ma veramente ma io manco così 40 ha buttato c'è guardate che culo 40 così adesso adesso ma anche a puntata massima ma sei matto dio vabbè uno ci trovo intanto vado in giro a più di nuova mi mancava la scelta la sua scala io sono il tubo al buone di tutti ma come sono detto ciao 53 amore io sono 4 4 4 ha fatto a scala vabbato da pure a me col porto a voi c'è uscito per l'uomo